L'approccio dei social e i commenti dei social a come si è presentata una ministra della Repubblica italiana, Teresa Bellanova, al momento del giuramento. Ci sono tutta una serie di commenti legati alla fisicità, al vestito, un approccio legato al ruolo delle donne, soprattutto anche del ruolo delle donne di rievo, con questo la ministra della Repubblica, totalmente sbagliato. C'è moltissimo da fare, le persone devono essere giudicate su quello che fanno, su come lo fanno. Purtroppo le donne vengono continuamente giudicate per il loro aspetto fisico, il loro approccio fisico e questo è una cosa totalmente sbagliata e porta a una cultura che va verso un senso, il senso di donna come oggetto, come corpo, oggetto di interesse, ma è tutta scollegata al merito e all'attività che questa svolge. È una persona che è una corporatura robusta, aveva un vestito che è totalmente di nessun interesse, non so come dire il vestito di una persona che è un abbracciante, che ha fatto tutta un'attività incredibile dal punto di vista proprio politico e che è arrivata a ricoprire un ruolo così rilevante dopo una vita di lavoro. Ecco, su questo, questo occorre, diciamo, si analizzare. Il fatto del vestito, della sua fisicità, che magari non aggrada particolarmente il genere maschile in Italia, oppure anche le donne che la commentano in questa maniera, è totalmente elevato, però fa capire qual è la cultura, dove dobbiamo muoverci, cosa dobbiamo fare per cambiare questo approccio rispetto all'attività delle donne anche a livelli apicali. Grazie a tutti. Grazie a tutti.